Ciao a tutti, io sono Cristia e io sono Carmela. Noi ci siamo sposati il 6 luglio del 2019 e per il nostro matrimonio abbiamo scelto Aicinimazione. Per prima cosa li abbiamo scelti perché loro sono dei ragazzi fantastici e la loro professionalità e la loro passione che mettono nel proprio lavoro è davvero qualcosa di eccezionale. Vi li consigliamo perché avrete un divertimento assicurato e sicuramente non rimarrete delusi. Nel nostro matrimonio sono riusciti a coinvolgere tutti gli invitati di ogni fascia d'età, quindi il divertimento è stato doppio. Sono la certezza per la riuscita di un bel matrimonio, li risceglierei altre mille volte. Quindi che dire? Seguiteli! Ma soprattutto sceglieteli!